A vederlo così quasi spento e privo di vita come mostrano le immagini girate questa mattina si fa davvero fatica a credere che il 2018 sarà davvero l'anno definitivo del decollo per l'aeroporto Costa D'Amalfi di Salerno. Eppure a spendere parole di speranza e piene di fiducia è stato anche il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, non solo sullo scalo salernitano ma più in generale per lo scenario di grande interesse per tutto il trasporto aereo. Dopo il via libera del CDA di Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino al progetto di fusione con lo scalo di Salerno Costa D'Amalfi, anche Vincenzo De Luca ha infatti confermato l'accordo raggiunto sulla fusione tra lo scalo Costa D'Amalfi e quello di Napoli. A margine dell'incontro per fare il bilancio del trasporto pubblico sulla regione Campania, il presidente De Luca si è soffermato sul futuro dell'aeroporto salernitano. Entro il 2018 dovrà essere completata la parte amministrativa relativa all'unificazione della gestione dei due aeroporti campani sotto la guida di un'unica società, la Gesac. De Luca ha chiarito di aver definito i passaggi con il ministro del Rio. Lo scalo aeroportuale è ora in attesa del decreto finale di concessione. Dopodiché, ha aggiunto il presidente De Luca, siamo pronti per partire con la gara per l'allungamento della pista dell'aeroporto Costa D'Amalfi. L'atteso ed annunciato ampliamento di 2,2 km dovrà partire entro il 2018, appena il rischio di perdere il finanziamento stanziato, ma consentirà, una volta effettuato, anche agli aerei di maggiori dimensioni di poter atterrare. Un'operazione che richiederà, secondo le prime stime, almeno un anno e mezzo di lavori, anche perché bisognerà procedere ad espropriare le aree necessarie. Si tratta di poco più di 50 ettari che dovranno essere espropriati a 90 proprietari che dovranno abbandonare i terreni. Poi bisognerà redigere un piano industriale che avrà, tra i suoi obiettivi, quello di sviluppare il traffico aereo in campagna in maniera integrata, sfruttando appieno tutte le potenzialità della regione, a partire da quelle turistiche. La fusione darà respiro a Capodichino, ha commentato il presidente Vincenzo De Luca, e ci consentirà di ampliare, secondo il programma fornito dalla GESAC, di 5 milioni di unità ai viaggiatori che arrivano in campagna a tre anni dal completamento delle nuove piste. Quindi si apre uno scenario di grande interesse per il trasporto aereo.